Da sempre il marchio AMD è sinonimo di innovazione. E oggi presenta la prima APU al mondo. E quindi cos'è esattamente una APU e in che modo trasformerà il computing? All'interno del computer i dati scorrono tra due aree critiche. La GPU per attività visive e creative. E la CPU per le funzioni analitiche e basate sulla logica. Tradizionalmente le comunicazioni tra CPU e GPU avvenivano lungo un'interconnessione dati, responsabile di trasmettere milioni di istruzioni al secondo. Veniva completata mediante elaborazione seriale in cui i dati erano organizzati in sequenza. Ma spesso rallentava le risposte del PC, esasperando gli utenti. AMD ha cercato una soluzione migliore. Introduzione della nuovissima Accelerated Processing Unit di AMD. Con una potente tecnologia del processore AMD e la grafica separata compatibile con DirectX 11. Combinati su un singolo chip. La combinazione perfetta di forza e bellezza. La nostra nuova e innovativa tecnologia APU combina le elaborazioni seriali e parallele per svolgere al meglio e simultaneamente operazioni o attività diverse. Grazie a un instancabile impegno che le ha permesso di superare la concorrenza, AMD è riuscita a combinare tutta la forza di un processore grafico AMD Radeon di classe separata con le sue CPU multicore pluripremiate. L'architettura alla base della nuova APU comincia con Vision Engine, il fondamento della tecnologia Vision che sfrutta i cordi AMD Radeon. L'acceleratore video e la grafica compatibile con DirectX 11. Per offrire un intrattenimento HD veramente realistico. La navigazione in internet a tutta velocità e applicazioni accelerate. Vision Engine nasconde al suo interno 80 piccoli ma potenti Core AMD Radeon che elaborano i dati in parallelo. I Core Radeon sono responsabili di accelerare le applicazioni abilitate dalla GPU, ad esempio l'editing di foto e video, oltre alle applicazioni di produttività utilizzate ogni giorno, come Microsoft Office e pagine web di nuova generazione che si caricano a velocità addirittura triplicata. La seconda funzionalità di Vision Engine, l'acceleratore video AMD consente videoconferenze e riproduzioni di film HD più fluidi e dai colori brillanti. E la grafica AMD di seconda generazione con supporto per DirectX 11, l'ultima funzione Vision Engine, offre un gaming ultra realistico che sfrutta le funzioni grafiche più alla vanguardia per superare anche la realtà. La nuovissima APU AMD presenta molti vantaggi. È piccola. La nostra APU è compatta per consentire la produzione di dispositivi poco ingombranti e più leggeri. ti offre tutta la potenza che ti serve proprio quando ti serve di più ed è conveniente. Perciò scegli il massimo per il tuo PC con la soluzione più innovativa, l'Accelerated Processing Unit di AMD.